Lick, ben ritrovati in zona barcaccio, questa mattina con voi voglio parlare di ben due argomenti, non uno, ben due il primo riguarda lo striscione che è apparso in quel di Casteldebole e dopo andiamo a vedere che cosa recita, uno striscione dei tifosi che chiede appunto alla squadra una cosa ben precisa, con delle motivazioni ben precise e poi voglio parlare del secondo argomento di giornata, cioè di questa voglia da parte di Sinesha Mielovic di voler far esordire questi giovani e voglio vedere insieme a voi, cercando di fare un ragionamento se è la strada giusta far esordire in questo modo i giovani e vi spiego perché Quindi, amraccamand, miei cari avventori, armatevi anche voi di grappa al caffè di un plum cake, ok, gentilmente offerto dal nostro plumone Joyce Putto e tutta la sua brigata, Walter Sabattini, Riccardo Bigon in primis e anche una slinguazzata la data, il Sinesha Mielovic e iscriviti, fai subito il tasto rosso, clicca sul canale, condividilo con tutti i tuoi amici di Fedorosso Blu, spamma questo canale e digli vuoi una ragione per essere soddisfatto della stagione del Bologna? Te la do io il canale delusione a bar calcio condividilo e lascia sempre un mi piacino ai video delusione bar calcio Allora, andiamo in ordine cronologico mentre splumo il plumone cake il plumone cake Allora il nostro iscione è apparso in quei di Casteldebole firmato da ben tre curve cioè da tre gruppi della curva, ovviamente Quartiere Santo Stefano CTS e Midi B ok che recita testualmente diamo un senso a questa stagione puntini di sospensione togliamo ai gobbi ogni soddisfazione hanno fatto anche la rima complimenti per la rima però devo dire un però ora dare un senso a questa stagione togliendo la Champions League alla Juventus a parer mio sarebbe una magra consolazione non so voi cosa ne pensiate semmai diamo un senso a questa stagione arrivando decimi perché voglio sottolineare una cosa che io stesso non mi ero accorto e adesso faccio ammenda dei miei peccati in questo video ma se noi dovessimo battere la Juventus e contestualmente il Napoli vincere con il Verona noi saremmo decimi è questo il senso della nostra stagione altro che battere la Juve per togliere ai gobbi ogni soddisfazione noi dobbiamo battere la Juve sì ma per dare a noi la soddisfazione di arrivare ai decimi che la Juve poi ne esca dalla Champions League a noi ce ne deve sbattere i maroni noi dobbiamo scendere in campo in quel match facendo la nostra partita alla grande perché possiamo raggiungere il nostro obiettivo del decimo posto che è quello che mister Joy Saputo il Patron Saputo aveva dichiarato voler raggiungere a inizio stagione perché tutti ormai lo sappiamo che l'obiettivo per Patron Saputo era quello di finire nella top 10 e qualora e ne abbiamo l'occasione si dovesse centrare la vittoria con la Juve noi con tutta probabilità ve la do al 90% qualora si dovesse vincere con la Juve noi finiremmo decimi perché arriveremmo con tutta probabilità pari punti con il Verona e per gli scontri diretti dove all'andata l'abbiamo vinto e al ritorno abbiamo pareggiato saremmo sopra al Verona quindi noi riusciremmo a prendere la decima piazza qualora si dovesse battere la Juve pertanto il senso a questa stagione non è sbattere fuori la vecchia baldracca dalla Champions League il senso di questa stagione per noi deve essere una soddisfazione nostra non una soddisfazione di contorno data da altri ok questo sia bianchiaro e mi sembra sempre di sognare quando vedo striscioni del genere attenzione attenzione a non confondere le cose io spero che Sinis e Mialovic batta chiodo su quanto ho detto io quindi Sinis apprendi a punti eventualmente perché so che ci guardi costantemente e apprezzi e lasci sempre il tuo pollicione alto in video dell'usione a barcalcio quindi a brachmanda poi seconda questione i giovani lode a Sinis e Mialovic perché sta facendo esordire un numero incredibile di giovani potremmo citare dagli inizi da quando ha fatto giocare Ikei o al finale da quando sta facendo esordire la qualunque Urbanski il nuovo Pianici a me lo dico io il nuovo Alexander Arnold poi chi c'è Raimondo che vogliamo che sia Raimondo il nuovo Lewandowski ok giocatori che hanno 15 16 anni non stiamo parlando di gente che ne ha 19-20 perché quelli giocano in primavera vedi Edoardo Vergani ad esempio che di anni mi pare ne abbia 20 quello lì ha fatto 30 minuti contro l'Inter neanche forse non si capisce perché ad esempio Vergani che per carità sta facendo Paine anche in primavera perché penso che stia segnando col contagocce adesso non ho la statistica sotto mano ma fino all'altro giorno aveva segnato 4 gol mi sembra però insomma questo mi fa storcere un po' al naso nel senso che senso ha fare e ve lo chiedo a voi fare esordire dei calciatori che hanno 15 anni nel caso ad esempio di Amei o 16 nel caso di Raimondo Urbanski ma per farli esordire non so 5 minuti 10 minuti che senso ha un conto e qui posso capire e veramente lodare Mialovic a quel tempo quando fece esordire Donnarumma e poi gli ha dato seguito nel senso che non è che l'ha fatto esordire per 5 minuti e poi l'ha rimesso a giocare nei pulcini del Milan lo fece giocare nel Milan e gli diede i galloni da titolare allora sì che ha senso se te mi fai esordire Amei che ha 15 anni e me lo fai esordire per 10 minuti dico Amei ma potrei dire Urbanski potrei dire Raimondo o tutti quelli che volete se me li fate esordire se me li fai esordire per 5 minuti e poi me li rimetti appunto nel dimenticatoio allora a me fai pensare che non stai facendo esordire tanto i giocatori perché ci credi e pensi che possano essere loro stessi oggi nel presente un plus valore per la squadra a te me li stai facendo esordire per un tuo vezzo personale da mettere a curricula perché la sensazione che io ho è che Miajelovic facendone esordire più possibile riuscirà in un prossimo futuro a dire avete visto Urbanski è diventato veramente il nuovo pianific io ve l'avevo detto poi poco importa se Amei se Raimondo se Ikei non faranno una carriera sopra la Lega Pro questo non sarà importante perché si ricorderà solamente di quello buono che il Sinisemielovic fece esordire alla tenere età di 16 anni ok e che quindi va a fare il paio con il Donnarumma e addirittura spolverano perché bisogna sempre spolverare la qualunque nella storia nella carriera di Miajelovic addirittura quando lui era giocatore fu lui fu su il merito del perché Vujadin Bosco fece esordire un giovane Francesco Totti non so se questa l'avete mai sentita ma fu la narrazione recita che fu Miajelovic a dire a Bosco ma fai giocare quel 17enne lì che è fortissimo e solo per questo Bosco lo mise in campo fu grazie a Miajelovic quindi la narrazione recita questo quindi Miajelovic vuole continuare a essere appunto procacciatore di giovani talenti e visto e considerato le modalità con le quali vengono messi in campo a Bologna non mi fa pensare che sia per altri motivi che questo cioè una sorta di nuovamente pubblicità da copertina per l'allenatore Miajelovic a cui piace avere la nomea di Lancia Giovani poi se per il resto non c'è nient'altro di sostanza poco importa perché lui ha capito quello che è importante fare parlare di sé quindi adesso io la butto lì vi chiedo se secondo voi ha senso quanto ho appena favellato perché insomma se su questi giovani lui ci dovesse vedere veramente qualcosa di extra perché qui si sta parlando di qualcosa di extra perché se te mi fai giocare un giocatore a 15 anni è perché devi vederci veramente un potenziale crack cioè ti dirò di più deve vederci veramente un potenziale Roberto Carlos un potenziale Sissenaido Maicon ok altrimenti mi fai storcere il naso e al mio modo di vedere se ci vedi i Maicon i Roberto Carlos tu non li devi fare giocare 5 minuti tu li devi mettere titolari da qui fino alla prossima stagione e ancora quella dopo ok altrimenti penso male bene do una bevuttina al mio grappa al caffè al mio grappino alla goccia alla goccia il mio pluma cake così ho terminato la mia colazione bene miei cari eventori con la bocca piena perché è buona educazione parlare a bocca piena sfatiamo anche questo storytelling che ci ha rotto i maroni che non si parla a bocca piena perché se io ho qualcosa da dire posso anche parlare a bocca piena va bene concesso è permesso grazie quindi mi cari eventori fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di queste chicche mattutine che vi ho lanciato attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'usione a barcaccio di nuovi video e noi ci sentiamo alle prossime YAKRABAR